Ed ora la partita, dopo 8 minuti la rete, vedete Onofri vuole essere troppo fine, Antonioni realizza con un bel pallonetto. Non è indeciso invece, lo vedete molto bene, Pecce rubare la palla a Peters e pallonetto ancora su Martina, 2-0 per una Fiorentina, che a questo momento si distende, è veramente grande, nel secondo tempo il Giro ci prova prima con Russo, poi ancora con Russo. Bello il passaggio di Iachini, la deviazione di Russo è fuori, ma la Fiorentina ha un Bertoni in più. Guardate cosa riesce a fare questo Daniel Bertoni, con un tiro di sinistro, una rete e sul finale soltanto il Genoa con Facenda ci prova ancora, ma è veramente l'ultima occasione, un 3-0 forse troppo pesante per il Rosso-Blu, un 3-0 scaccia crisi per la Fiorentina. A voi la linea.